Grazie a voi che dire il feedback non fa schifo, però lo giriamo un attimo, no giusto perché così siamo usciti un po' dalla nostra pubblicità della gente, anzi adesso faccio una cosa, noo, fino, aspetta che ti venga presto. Oh, prendo sempre i cellulari da 48, che figa che... Oh, guarda, guarda, si è ofesa, si è ofesa. Allora, facciamo... Salve, figlio di Mac. Allora, facciamo... 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 Allora, facciamo...